Ragazzi ci siamo! Grandissimo campionato degli Angels, sono 25 su 25, è scattata la festa! Loriano cosa dire sulla grandissima festa Angels? Che è meritatissima e che se la devono godere fino in fondo, dall'inizio alla fine cantano We Are The Champions, adesso ci sono anche i quini sottofondo ed è giusto che sia così perché Sant'Arcangelo questa festa se la merita e deve essere una festa straordinaria perché sono 25 vittorie su 25, ci sono le magliette celebrative e adesso Sant'Arcangelo se la deve godere tutta! Sei pieno di champagne, spumante, quello che è, vi assicuriamo che in questo momento restare in piedi su questo parcheggio è difficilissimo perché c'è una distesa di spumante che non finisce più, fatto sta che il contesto, la cronaca 92-73 per Sant'Arcangelo di questa partita non ti chiedo nulla, ti chiedo solo com'è bello festeggiare ancora una volta! Ah è bellissimo anche perché la forza di questa società è che dopo i momenti difficili si ritornano sempre su e questo vuol dire che c'è un lavoro di base eccellente che permette di risalire, di prendere la sconfitta non come un momento difficile ma come un momento di ripartenza, questa è la grande forza di questa società. Bravo il Presidente Maurizio che crede nei giovani e infatti la squadra che ha trionfatto stasera e per tutto quest'anno è tutto il vivaio di questi ultimi anni, quindi congratulazione per il Presidente Fabri e a tutto il movimento del basket qui a Sant'Arcangelo. E complimenti a tutti e tutti, tutti e tutti! L'altra cosa doverosa hai detto te, l'abbiamo ripetuto tante volte in questa stagione perché questa è stata una stagione firmata da due fenomeni per la categoria come Pesagli e Saponi ma l'hai già accennato, da un movimento che riparte dal basso, no dal settore giovanile che tanto basso non è e anche stasera ha tanti ragazzi protagonisti. I protagonisti e il contesto di una tribuna piena zeppa di ragazzi del settore giovanile. Quanto è bello festeggiare assieme a loro? È bello perché il pubblico ci ha seguito veramente tutta la stagione. Ci botta! Con grande entusiasmo ci hanno seguito, gli stessi sponsor ci hanno seguito con grande entusiasmo. Botta! E quindi io vorrei ringraziare il qui presente Michele perché lui oltre che il nostro coach Tassinari è la spina dorsale di questa squadra. Grazie Michi a nome di tutta la squadra che oggi è venuto nonostante che avesse cagarelle e vomito dalla mattina. Bravo Michi! Grazie! Adesso lo sanno tutti, adesso è vero, è vero! Ho il cagotto, ho il vomito, un po' di febbre però sono venuto qua a festeggiare. Grazie mille Michi e complimenti. Sapo vieni. Sì, sì, amo, amo. Non sai che Michi si arrabbia tantissimo perché deve montare un'altra retina adesso, vero? Ah, fosse solo questo che facciamo arrabbiare Michi, fra i tabelloni del 24 che gli spacchiamo la mattina quando tiriamo e tutto. Poi a fine anno ci presenta un contesto altissimo. No, a parte gli scherzi, anche Michi, voglio citarlo qua. Michi è libero, ringrazio loro che ogni giorno ci fanno trovare sempre questo palastetto super, tutto quanto lo staff Sant'Arcangelo. Guarda, veramente è un ambiente fantastico trovarlo, sono contentissimo. Vuoi farmi qualche domandina? Guarda, questa sera l'abbiamo detto. Urlo giustamente. Lasciamo l'audio perché è fantastico. Quanto è bello festeggiare, sì, la festa era nell'aria perché avete vinto 24 partite consecutive, 25 con quella di questa sera. Quanto è bello festeggiare con tutto questo ambiente, con i ragazzi del settore giovanile, con le magliette, tutto colorato di giallo-blu. Beh, allora, come ti ho già detto prima, io qua a Sant'Arcangelo... Vedete, il gruppo è fantastico. Comunque, ti dicevo, qua a Sant'Arcangelo è bellissimo per tutto quello che c'è intorno. Io guarda, mi sembra di essere, è il primo anno, ma essere qua da sempre perché comunque è un ambiente familiare, tutto è fantastico. Poi oggi, guarda, ha un contorno così, è solo il coronamento di un'annata che fino ad adesso è stata super. E forza Angels. Una dedica finale a qualcuno? La dedica, la voglio dedicare ai miei genitori, che mi sostengono fin da piccolino, alla mia ragazza e a tutti quelli che credono in questa società e che amano la pallacanestro. Quindi una dedica un po' in generale. E forza Losa che è il numero uno. Losa.it Grazie mille, la pubblicità, fantastico. Maurizio, due parole col presidente Maurizio Fabri. Questa è una serata fantastica, una serata che era nell'aria perché la festa era stata preparata. Però festeggiare in un ambiente del genere con tutti i ragazzi attorno, colore giallo-blu, i bambini e poi festeggiare con una squadra che è piena di ragazzi che sono cresciuti qui. Ma in effetti io ricordo che ad agosto quando ho presentato, ho parlato con la squadra, gli ho detto ragazzi quest'anno vinciamo il campionato e non c'era né Sapone né Pesaresi. Loro si sono guardati un po' intorno e ho detto ma sta parlando con noi? E io gli ho detto sì parlo con voi perché noi quest'anno vinciamo il campionato. E soprattutto grazie al presidente, grazie Pres per tutto questo. Poi parlavo proprio due minuti fa con un genitore, la mia soddisfazione, a parte la grande vittoria che abbiamo ottenuto con 25 vittorie consecutive, sono tutta questa marea giallo-blu di bambini e sono il nostro futuro e il nostro futuro ci dà ancora più carica per andare avanti. C'è stato un momento particolare più bello degli altri in questa stagione, è anche difficile dirlo perché 25 vittorie sono tutte immagino fantastiche. Quando, al di là della convinzione iniziale, quando si è capito veramente che ormai ce l'abbiamo fatta? Io ero convinto che ce l'avremmo fatta già dalle prime partite perché la squadra era una squadra che lavorava bene, lavorava la mattina e quindi era già impegnata e già vedeva l'obiettivo finale che era la promozione. Adesso andiamo avanti e vediamo cosa ci risello in futuro, può darsi anche la C nazionale che poi sarà regionale. Questo è proprio un po' il tema perché la C comunque c'è, perché dalla D si passa alla C, però insomma si parla spesso e volentieri della possibilità di avere quella che adesso si chiama DNC. Noi siamo disposti, disponibili, dipende tutto da Bologna che cosa intende fare, noi siamo qua. C'è una dedica particolare per questa vittoria, per questa stagione, al di là della vittoria nell'ultimo partito? Ma io prima di tutto lo dedico ai ragazzi perché si sono impegnati con un impegno enorme per tutto il campionato. Allo staff ringrazio Tassinari Davide, il vice, quindi ringrazio tutti. E in modo particolare dedico questa vittoria di campionato ai nostri tifosi e ai nostri bambini.